Buonasera Londra, oggi parliamo della dieta chetogenica pro, contro, va bene, non va bene. Per avere però quadra la questione dobbiamo fare un passo indietro e partire come nostro solito dalla biochimica e dalla fisiologia, in modo da avere tutti gli elementi oggettivi per avere un quadro completo sulla questione. Quindi nel video di oggi vediamo se la dieta chetogenica fa bene o fa male e se fa dimagrire di più. Scopriamolo! Non possiamo parlare di dieta chetogenica senza introdurre i corpi chetonici e la chetosi, i quali sono gli elementi biochimici essenziali su cui si basa questo regime alimentare. Tutti abbiamo sentito il detto che dice i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati e questo avviene perché nel metabolismo degli acidi grassi, nella beta-ossidazione, l'acetilcoenzima che si accumula dal catabolismo dei lipidi per poter entrare nel ciclo di Krebs ha bisogno dell'ostaloacetato prodotto principalmente dalla glicolisi. I carboidrati, gli zuccheri, fungono così da chiave per permettere ai cataboliti degli acidi grassi di poter essere ossidati. I grassi così non possono bruciare senza zuccheri. Ma? Cosa succede in una dieta chetogenica o in una dieta low carb, ma anche semplicemente nel digiuno quando noi smettiamo di mangiare? Il corpo utilizza come fonte primaria gli acidi grassi, i quali vengono scomposti e accumulano acetilcoenzima A che non riesce più entrare nel ciclo di Krebs. A questo punto l'acetilcoenzima A prenderà un'altra via metabolica che lo porterà nel fegato a trasformarsi in corpi chetonici. La chetosi è così una via metabolica di riserva che si attiva nel nostro corpo semplicemente quando non mangiamo carboidrati. Storicamente è sempre stata vista in medicina con preoccupazione perché è stata scambiata con la chetoacidosi diabetica o la chetoacidosi alcolica, che sono due situazioni estreme in cui il corpo non riesce a smaltire tutti i corpi chetonici che fungono poi da molecole energetiche, le quali accumulandosi nell'organismo e nel sangue portano a variare il nostro pH, il quale a sua volta può portare addirittura alla morte della persona. Nei soggetti sani questo assolutamente non avviene perché sia il sistema nervoso, sia i muscoli, sia il nostro cuore ed altri tessuti che hanno i mitocondri, hanno la possibilità di utilizzare i corpi chetonici ai fini energetici. Il nostro cervello è un tessuto glucosio preferenziale, che cosa vuol dire? Che si ha del glucosio degli zuccheri che utilizza questo substrato come fonte energetica, non può utilizzare gli acidi grassi che non riescono a passare la barriera ematoencefalica, ma può utilizzare benissimo i chetoni. Quindi durante la chetosi i corpi chetonici diventano un substrato che va a nutrire tutti quei tessuti che normalmente gli acidi grassi non riescono a sfamare. La produzione di corpi chetonici è regolata a livello epatico nel fegato. Il fegato mediamente ha 100 grammi di glicogeno, quindi di zuccheri con cui regola la glicemia. Mano a mano che la sua riserva di zuccheri scende, sposta il suo metabolismo verso gli acidi grassi. Quando quest'ultimi non hanno abbastanza carboidrati per essere ossidati, crea dei corpi chetonici e il nostro organismo incomincia, attraverso la chetosi, a utilizzare questo come substrato energetico. Mediamente la produzione di corpi chetonici si attiva in modo proponderale dopo 16, 18, 24 ore di digiuno. Nei soggetti sani raggiunge mediamente il 7, 8 millimoli per deciletro, un quantitativo comunque basso che non può variare il pH del sangue. Per questo la chetosi fisiologica, e il termine è stato coniato da Krebs, lo stesso inventore del ciclo di Krebs premio Nobel, per distinguerla dalla chetoacidosi diabetica, dove i corpi chetonici raggiungono dei valori ben più alti che portano a variare il pH del sangue. Nei soggetti sani l'insulina viene prodotta anche con una dieta chetogenica, anche durante il digiuno. Mentre nei diabetici di tipo 1 non ci può essere la produzione di insulina e questo ormone permette ai corpi chetonici di non accumularsi eccessivamente nel nostro organismo. Ormai da tantissimi anni la dieta chetogenica viene utilizzata in medicina per curare innanzitutto i bambini epilettici che non rispondono ai farmaci, ma anche contro l'obesità, per alcuni problemi cardiovascolari, per alcuni tumori e per tantissime altre patologie. Quindi la prima cosa che possiamo dire è che no, nei soggetti sani la dieta chetogenica non fa male. E questo è la fisiologia che ce lo insegna. Ora che abbiamo concluso questo primo blocco di biochimica e fisiologia e abbiamo avuto un quadro, anche se superficiale, comunque abbastanza ampio della questione, andiamo a vedere a livello nutrizionale se può convenire o non convenire fare una dieta chetogenica. In medicina questo approccio nutrizionale viene utilizzato principalmente in due casi. Nei grandi obesi che devono essere sottoposti a intervento chirurgico e hanno bisogno di perdere peso molto rapidamente. La dieta chetogenica come tutte le diete low carb permette di liberarsi velocemente dei liquidi in eccesso, quindi fa perdere rapidamente peso ma non grasso, ma dall'altra parte inizialmente la produzione di corpi chetonici hanno un effetto saziante per il nostro organismo. Quindi la persona che non conta i macronutrienti, non conta le calorie, riesce ad autoregolarsi mangiando meno senza soffrire la fame. E questo è il motivo per cui viene proposta agli obesi oppure anche a tutte quelle persone che hanno un metabolismo basso ma non ancora dei chilogrammi da perdere e che riducendo eccessivamente le calorie non riuscirebbero a sopportare il senso della fame. Tenere per un tempo limitato la persona con una dieta chetogenica permette almeno nel breve periodo di perdere più facilmente grasso. A livello poi metabolico la conversione dell'acetilcoenzima A in corpi chetonici che vengono sfruttati a livello energetico è meno efficiente dal punto di vista metabolico, quindi la persona spreca più energie rispetto a utilizzare il glucosio e gli acidi grassi. E questo è un vantaggio metabolico che aiuta facilmente a perdere peso ma purtroppo viene controbilanciato dagli ormoni tiroidei. Se una dieta chetogenica dà un vantaggio metabolico nella dispersione delle energie, dall'altra parte sottoregola gli ormoni tiroidei, i quali ormai sappiamo sono finemente regolati a livello epatico dal quantitativo di glicogeno presente nel fegato. Meno glicogeno abbiamo e più la conversione degli ormoni tiroidei si abbassa. In medicina i due fattori vengono equiparati quindi la dieta chetogenica né dà vantaggi né dà svantaggi. Anche sul senso della fame che inizialmente porta a una soppressione dell'appetito si sta vedendo che in realtà a parità di proteine nel lungo periodo la dieta chetogenica non sazia di più. Lo fa soprattutto nella prima fase inizialmente e lo fa soprattutto perché mediamente chi segue una dieta chetogenica mangia anche più proteine. Ma se andiamo a comparare nel medio e lungo periodo una dieta chetogenica con un certo quantitativo proteico rispetto a una dieta non chetogenica con le stesse proteine, l'effetto saziante è molto soggettivo e non è detto che sia a favore della dieta chetogenica. Per andare in chetosi mediamente servono due tre giorni poi dipende da quanti carboidrati stiamo introducendo. La letteratura scientifica consiglia di stare sotto il 20% delle energie fornite dai carboidrati ma per alcune persone conviene stare sotto il 10% mediamente massimo 50 grammi di carboidrati nella giornata. Nel primo periodo i muscoli e il cervello hanno una difficoltà a utilizzare i corpi chetonici ai fini energetici. Quindi cercano di compensare trasformando gli amminoacidi in glucosio per continuare a utilizzare questo zucchero come fonte energetica. Quindi si consiglia a chi vuole andare in chetosi di aumentare il suo quantitativo proteico almeno nella prima settimana o nei primi dieci giorni per cercare di salvaguardare il più possibile la massa magra. Successivamente dopo dieci giorni due settimane quando l'organismo è perfettamente in chetosi abbiamo un effetto di risparmio sul tessuto contrattile. Nello sport anche se periodicamente abbiamo il guru di turno che dice che con la dieta chetogenica si ottengono più risultati con l'olio di cocco i grassi a media catena eccetera eccetera ai fini energetici i corpi chetonici non rimangono il miglior substrato a livello energetico. A paretà di ossigeno consumato il glucosio è la fonte energetica che ci permette di avere più energie. Quindi se siete degli sportivi se fate sport glicolitici la dieta chetogenica inizialmente può avere un effetto placebo per cui vi sentite meglio vi sentite più energici ma fisiologicamente non vi può dare le stesse energie che una dieta ricca di carboidrati. Come approccio nutrizionale invece per le persone sedentarie sane può essere un'alternativa soprattutto per chi è dipendente dai carboidrati e dai dolci. Insegnare al corpo a fare a meno degli zuccheri può essere sicuramente utile può essere una delle tante strade che i professionisti biologi nutrizionisti dietisti prendono sui loro clienti sui loro pazienti ma ovviamente non è la sola. La dieta chetogenica rimane una dieta sbilanciata come tutti gli approcci nutrizionali che escludono un macronutriente facilmente visto che esclude intere categorie di alimenti può portare a carenze soprattutto se non viene compensata da una buona dose di verdure e di frutta e a livello sociale pone dei forti limiti. Forse proprio quest'ultimo punto che fa della dieta chetogenica una dieta di nicchia perché se noi ogni volta che andiamo a mangiare fuori ogni volta che abbiamo una festa di compleanno dobbiamo essere asociali per seguire il nostro regime alimentare sicuramente ci stiamo limitando rispetto ad altri approcci che non escludono alcun alimento e possono portare al medesimo risultato. Concludendo la dieta chetogenica nei soggetti sani non fa male può essere una delle tante strade che noi abbiamo come la dieta zona la dieta mediterranea il digiuno intermittente o l'approccio che preferite voi è comunque sicuramente una dieta da valutare da studiare perché come sempre solo chi conosce sceglie altrimenti crede di scegliere. Se sei arrivato fino qua ti ringrazio iscriviti al nostro canale metti la campanella condividi il video se vuoi fare della sana informazione e noi ci vediamo col prossimo appuntamento grazie ciao